la tigre del farweb che gioca a minecraft pompa al volume che c'è yuk 4316 ciao a tutti ragazzi sono yuk e benvenuti in questo nuovo video prima di cominciare volevo dirvi di seguire tutto il video per poi poter commentare o se no non commentate nemmeno se non seguite il video, devo dire un paio di cose importanti veramente prima cosa importante è qualsiasi cosa io dirò o di qualsiasi persona io parlerò, vi chiedo e vi scongiuro per favore di non andare ad insultare, non andare a commentare, non andare ad avvisare come il classico che si fa di non fare nulla, è una questione mia che vi sto pubblicando per altri tipi di questioni ma non voglio che facciate il tifo da stadio o i tifosi da stadio andando a dire lui è più grande lui è più piccolo, lui è più bravo, lui è meno non mi interessa non voglio scusate che accade questo allora come vedete sottofondo prima cosa importante vedete il canale di twitch dove ultimamente sto facendo molti live tutti i giorni di parecchie ore sono arrivato ad essere stanco ragazzi perché tutti i giorni è veramente faticoso voi non immaginate però continuerò a farli finché riesco un'altra cosa importante è che tutti mi state chiedendo Luke come fai a fare tutti questi live e non vai a lavorare o altre cose si non ve l'ho detto prima ve lo dico oggi non sto andando a lavorare sto facendo tutti questi live durante i giorni perchè in realtà non lavoro sto cercando un lavoro in questo periodo è un paio di settimane da quando più o meno ho iniziato a fare i live che ho perso il mio lavoro ho deciso di non continuarlo non ho perso per cui tutte le persone grazie ad alcune altre persone mi vengano a chiamare fallito o a dare del fallito sappiate che io non sono fallito perchè fallire è un'altra questione non è la mia io sono elettricista in bianchino idraulico muratore il mio lavoro è quello lì ho studiato avevo una mezza impresa e se la gente non ha soldi se in Italia o nel mondo c'è la crisi e non pagano non sono fallito io io non posso andare a biancare un appartamento per 50 euro quando con 50 euro non ci compro manco mezza tolla di vernice o un impianto elettrico per 100 euro quando per 100 euro non ci compro manco tre matasse di filo è inutile per cui diciamo che il lavoro scarseggiava sempre di più le richieste c'erano ma i soldi che io chiedevo e non chiedevo chissà che chiedevo molto meno di altre ditte non o lavori fatti non pagati o lavori fatti con sconti non pagati per cui ragazzi era inutile anche andare avanti ho dovuto chiudere tutto e sì ho perso il lavoro bene ve l'ho detto allora per cui ho molto più tempo tra nervosismi e cose mie personali vari mi sto tra virgolette sfogando con i live non con i video ora arrivo a quella questione più che altro con i live per cui ringrazio di cuore a tutte le persone che continuano a sostenermi a seguirmi tutti i giorni live perché io si intrattengo con minecraft o comunque sia con un live ma se non ci foste voi in chat o a seguirmi io non ci sarei su twitch per cui come dico sempre i grandi siete voi un grazie grosso va a voi poi a me un'altra cosa sto facendo molto anzi nessun video su youtube per quanto riguarda let's play o altro primo per il periodo che sto passando non ne ho voglia e sono sincero e anche però se avessi quella poca voglia ho una connessione che ultimamente sto facendo sempre più schifo la sto cambiando incrociamo le dita mi sta arrivando la fibra ottica per cui poi bombarderò alla grande e non vedo l'ora e spero non sia una stronzata e vi farò sapere anche che tipo di fibra ottica con quale gestore eccetera eccetera ma poi vi farò sapere con calma bene tornando alla questione gabbo ragazzi mi stanno arrivando un sacco di minacce di morte e tante altre cose bene sono qui oggi a dirvi un paio di cose vi ripeto quello che ho detto all'inizio non andate ad insultare nessuno ve lo chiedo per favore fatevi i fatti vostri ascoltate quello che ho da dire fatevi una vostra opinione una vostra ragione un vostro pensiero insultatemi fate quello che volete ma insultate me non andate a insultare lui mi voglio beccare tutti gli insulti io tranquilli tanto oramai da un orecchio mi entrano dall'occhio mi escono e ricapitolando una cosa velocissima si tratta sempre di quel famoso live dove io parlavo già nervoso per i fatti miei mi ero anche innervosito per quei bimbi mociosi che mettono le foto di mio figlio eccetera eccetera poi mi è arrivato il commento da un tipo mi ha fatto vedere un'immagine dove Gabbo avesse commentato e vi ripeto si Gabbo mi ha difeso in quel commento ok ma sempre comunque commentato facendo salire le visite perché tutti coloro che seguono Gabbo nella pagina sua personale personale non quella fan hanno comunque sia visto il post e comunque sia è pubblicità poteva benissimo segnalare come hanno fatto tanta altra gente va bene però io non ce l'ho con Gabbo per quel commento ma per tanti altri commenti quello è stato la goccia che ha fatto trovocare il vaso come commenti di Luke money grabber di merda nelle pagine facebook di Halifax pollice in su da parte di Gabbo lì non è difendere come quando omiatole tanti altri hanno fatto dei video contro di me nei commenti sei un grande o bravo eccetera eccetera di Gabbo lì non è difendere per cui i commenti li ha sempre fatti difendendo o non difendendo ha sempre fatto salire delle visite a ciò che guardava o a ciò che o ciò che non lo so se l'ha fatto anche da altre persone comunque sia nei miei riguardi l'ha fatto abbastanza un bel po' di volte ora vi faccio un esempio se mettessero non è un insulto se mettessero la foto della fidanzata di Gabbo o di un figlio ma non credo abbia figli perché è ancora giovane una foto della fidanzata o del figlio di Gabbo un fotomontaggio di qualsiasi genere brutto e io andassi a commentare invece di segnalarlo non credo che Gabbo mi direbbe hai fatto bene si sarebbe incazzato anche lui allora io da nervoso sia dei problemi elencati prima che quelli aggiunti ho chiamato ho dato del faccia di merda a Gabbo più volte in live ho sbagliato ho subito cancellato il live dopo ho subito chiesto scusa in un video e in un messaggio ma ho chiesto scusa ok poi Gabbo ora non vuole accettare le mie scuse bene io non sono un bambino e ho anche altri cazzi a cui pensare le accetti mi fa piacere non le hai voluto accettare beh non vado avanti lo stesso cioè vivo lo stesso senza il tuo accettamento di scuse dico questa frase non italiana perché tu mi chiami dice che sono ignorante bene detto questo non è un video per farmi accettare le scuse o altro io continuerò a chiedere scusa per gli insulti fatti da me in live ho solo detto faccia di merda nient'altro ma mi vengono a dire altre cose poi Gabbo mi manda un bel messaggio abbastanza lungo che ho anche pubblicato su facebook ma poi cancellato non volevo tenerlo sul mio facebook dove da del disgraziato a me no quello in un commento suo del disgraziato si in questo momento sono un povero disgraziato che ha perso un lavoro con una famiglia da mantenere si sono un disgraziato per cui ti do ragione non lo metto come insulto mi hai detto che io su twitch chiedo lemosina tra donare e lemosinare c'è una bella grossa differenza su twitch se tu non conosci il canale twitch almeno informati prima di parlare il 140% degli americani hanno il tasto donazioni il 99% degli italiani hanno il tasto donazioni io faccio parte di quella percentuale e ho il tasto donazioni non vado in live a chiedere lemosina come tu dici chi mi segue su twitch sono tutti mocciosi hai detto e chi sta in chiamata con me ossia Sama Beck Malento Willa Joe tutti coloro che mi aiutano sono dei celebrati per cui come sempre tu sei un grande noi siamo piccoli va bene accetto tutto non mi interessa niente però una piccola differenza ora una cosa che dico agli altri non agabbo si in questo momento l'entrata di youtube mi fa comodo mi fa comodo ancora non ho ricevuto stipendio questo mese nel senso che il lavoro l'ho perso due settimane fa più o meno per cui dal prossimo mese l'entrata tra virgolette di youtube mi fa comodo si perché devo continuare a mantenere la famiglia devo continuare a fare tutto il resto per cui si lo sto ammettendo lo sto ammettendo ragazzi l'entrata di youtube da oggi in poi mi farà comodo fino a quando terrò il canale aperto perché potrei chiuderlo da un momento all'altro perché non voglio vivere con youtube e non voglio far si che youtube diventi il mio lavoro sto già cercando un altro lavoro del mio campo o tutt'altro basta che sia un vero lavoro e non youtube youtube io l'ho aperto per divertimento e divertimento finirà l'ho aperto per svago per gioco e per compagnia e per tutte queste ragioni il mio canale finirà tale ok io non voglio lavorare con youtube e lo dirò fino alla mia morte io non lavoro su youtube e non lavorerò su youtube mi diverto punto fino a quando ho voglia di tenere il canale aperto poi per quanto riguarda i live mi sto dedicando più ai live che ai video per le questioni elencate prima primo non ho voglia ultimamente di giocare tanto si minecraft perché mi passarà mi svago mi sfogo ma non ad altri giochi non sto giocando più a nulla e mentre caricare i video poi con la connessione di merda che ho aspetto se mi mettono questa benedetta fiberottica per cui ragazzi perdonatemi attendete chi vuole attendere disiscrivetevi chi si vuole disiscrivere che tanto non mi interessa nulla però voglio dire una cosa importante visto che gabbo mi ha dato del disgraziato di uno che va in live a chiedere lemosina ora ti faccio un paragrafo ti dico una cosa gabbo guarda in italia al mondo oggi tante famiglie non arrivano a fine mese tante famiglie chiudono edifici edifici scusatemi negozi chiudono ditte chiudono tutto perché c'è la crisi perché non riescono ad arrivare a fine mese tante famiglie in italia oggi hanno la fame sono malate o io visto che mi reputi disgraziato che vado in live a fare lemosina e ti senti superiore a me sono malato allora se la povertà è una malattia guarda gabbo te lo dico con tutto il cuore da oggi non chiamarmi money grabber non chiamarmi luco 4316 ma chiamami semplicemente malato si sono malato se povertà equivale a malato allora si sono malato ma ne sono fiero di essere malato perché almeno a fine mese arrivo con le gioie qualsiasi cosa io faccia lo faccio grazie a me e essere ricchi oggi non non credo porti da qualche parte perché tanto i soldi non fanno la felicità però sono un malato con un cuore grande quello è quello che mi fa onore a me stesso non dico gli altri ragazzi non è un video pianistero non è un video per coprirmi il culo non è un video di questa tipologia è un video perché mi sono semplicemente non voglio usare parole volgari cagato le palle ok mi sono rotto la minchia scusate il termine ragazzi sono su youtube perdonatemi a tutti i piccolini che mi seguono perdonatemi ma sono stanco sono arrivato al punto di essere stanco gli avete anche detto Luke tu per ogni cosa pubblichi su youtube no se dovessi pubblicare qualsiasi cosa che mi succede sul canale dalla mattina alla sera dovrei fare un video 24 ore su 24 no pubblico solamente queste cose le cose le cose che mi danno fastidio le cose che mi toccano personalmente fisicamente o mentalmente o che toccano la mia famiglia perché darmi del disgraziato o darmi del fallito gabbo o darmi del quello che va su Twitch a chiedere l'emosina stai toccando anche se in parte la mia famiglia e per cui io non ti ho mai cagato ti ho si ringraziato in un video non ringraziato perché non devo ringraziarti di nulla perché tu non hai fatto nulla per me ti ho elogiato in un video ti ho reso bravo in un video grande un bravissimo youtuber che seguivo e continuo a seguire perché sono sincero sono una persona grande matura e sincera continuerò a seguire i tuoi video perché a me piacciono i tuoi video non mi piaci tu come persona dopo quello che hai fatto perché mi hai veramente deluso io ti ho chiamato semplicemente faccia di merda in un ambito di nervosismo ti ho chiesto scusa ho cancellato tutto ok non ti ho chiamato disgraziato se tu fossi disgraziato non ti ho detto che vai a chiedere l'emosina se tu avresti messo un tasto donazioni non avrei insultato chi ti segue o chi ti sta attorno perché se Johnny Creek fa video con te io non lo chiamo decelebrato come tu hai fatto con i miei partner o con le persone che mi stanno accanto ok Gabbo e con questo chiudo il video ragazzi vi ricordo vi rammento vi chiedo per l'ultima volta per favore non insultate nessuno io in questo video mi sono sfogato non so nemmeno se lo caricherò o se poi dopo averlo caricato lo cancellerò vi ho detto tutto quello che mi sta capitando come al solito come in due anni su YouTube io vi ho sempre detto tutto di me non vi ho mai nascosto nulla se riesco in questi giorni caricherò video se ho voglia se non ho voglia non li faccio perché ho altri cazzi a cui pensare continuerò a fare live perché è l'unico modo l'unica cosa che in questo momento mi sta distraendo per cui ragazzi un abbraccio potente grosso a tutti coloro che mi stanno seguendo sostenendo e facendomi compagnia dopo il live o prima del live c'è la mia famiglia non sai dei miei pensieri Gabbo come è scritto nel messaggio non ti cago non penso dalla mattina alla sera a te come hai detto ragazzi un bacione un abbraccio come al solito dagli occhi e tutto vado a fare un po' di lemosina in mezzo alla strada ciao grazie a tutti